Che freddo! Babbo Natale? Ma è lei Babbo Natale? Chiedo scusa un attimo che devo finire. Siamo arrivati in Lappogna, proprio nella casa di Santa Claus. Ma è... è lei quello vero? Sono quello vero. È quello dell'anno scorso? No, non sono quello dell'anno scorso, perché Babbo Natale dell'anno scorso è andato in pensione. In pensione? Sì, con la 380, proprio il massimo... Cos'è la 380? Sarebbe che da noi abbiamo un funzionamento tutto particolare per andare in pensione. La 380 sono raggiungere 200 anni di lavoro con 180 anni di età, per avere proprio il massimo. Tanto lavoro! Tanto lavoro, però siccome da noi la vita è lunga, bisogna premonirsi con la pensione. Ma cosa c'è? Una scuola? Sì, c'è una scuola. Noi facciamo... ci sono delle prove, tipo entrare nel cammino, portare... Adesso perché portiamo anche i pacchi con... abbiamo degli elementi moderni. Non ci sono più le renne? Le renne ce le abbiamo, però siccome il lavoro è aumentato, volevamo fare anche delle renne elettriche. Però dopo con l'aumento delle bollette siamo stati costretti a tenere le rene di prima. Stanchissime, stanchissime. Ma parlerà in diretta con le bambine e i bambini? Come no! Tutti lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18.30 alle 19.30. Voi fate questo numero e saremo tutti collegati. Ci faremo gli auguri, ci divertiremo e forse ci sarà una grossa sorpresa. Scusa, forse, non anticipiamo. Qualche giochino? Forse, forse qualche giochino e forse qualche premio. Forse. Non diciamo nulla. Babbo Natale, grazie. Allora presto, eh. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Da dove viene? Fano. Fano, conosco, una bella cittadina, bella, bella. Di nuovo, grazie. Erdogan, Erdogan. Anche quanto ci sono gli ospiti, dignità, dignità.